Amici di Musica Maestro, purtroppo lasciamo questi ragazzi. Ho avuto veramente una grande emozione. Mi sono piaciuti su tutti gli aspetti. Vogliamo ritornare. Tu ti chiami? Samantha. Vai Samantha, vai, vai. Guarda che roba. Jo. Potresti provare anche tu a fare. Tu è meglio di no, le tende è con quelle di caso. Se provo io possiamo trovare il petrolio dall'altra parte. Allora, Luisella e lei ti ricordi. Silvia. Silvia, vieni qua. Noi salutiamo. Guardate questi ragazzi. Lui sempre dalla scala di Grugliasco. La scala non è ancora scesa. Allora, noi siamo musicamaestro.tv. Tutti i mercoledì alle 20.30 su Sky 825. Sì. E con su Rete 7. Canale 12 del Digitale Terrestre e poi il nostro sito www.musicamaestro.tv. Bene, noi vi diamo un appuntamento presto. Segnaleremo le performance di questi ragazzi presso le piazze e presso i teatri. E che dire, un saluto a tutti. Ciao! Ciao! Ciao a tutti dal Circo Vertigo. Circo Vertigo www.scuoladicirco.it